La rete influenza sempre più la politica e viene presa come indicatore per costruire le campagne di leader e partiti. Ma non ci fermiamo qui perché secondo quanto emerso nel corso di un incontro in programma all'Internet Festival di Pisa, l'analisi dei big data e i sentiment che emergono dalle tendenze su social network come Twitter, hanno addirittura il potere di essere determinanti per costruire la linea politica di un partito. Tra i social più tenuti d'occhio dai governi c'è Twitter. Dalla lettura delle tendenze e delle discussioni degli utenti, la politica trae così spunti interessanti che determinano voleri, impressioni e richiesti che arrivano direttamente dalla società. Un campo virtuale dove cogliere i sentimenti dei cittadini, analizzarle e sfruttarle per vincere le elezioni o determinare il consenso pubblico. È cambiata proprio anche la visione che si ha di Twitter da parte dei governi, organizzazioni governative o non governative. Twitter può fornire informazioni di un certo valore e si possono fare anche delle previsioni. Si può prevedere per esempio il risultato di un'elezione attraverso Twitter oppure cercare di immaginare quale può essere il risultato commerciale di un nuovo film ed altri tipi di eventi. Insomma, si è arrivati ad avere questo cambiamento per quanto riguarda Twitter e per quanto riguarda proprio la visione esterna che Twitter irradia. Questa nuova posizione, questo nuovo cambiamento che si è verificato con Twitter va di pari passo anche con questo fascino, questa attrattività verso i big data. Intanto in Italia qual è la situazione? La politica è uno degli argomenti sui quali ci si confronta dei più online. Un'indagine condotta dal professor Cristian Baccari dell'Università di Bologna ci svela che nel nostro paese le persone che discutono di temi politici su Twitter sono molto attive non solo nel virtuale ma anche nel reale. Insomma, non solo chiacchiere sui social ma partecipazione attiva. È emerso che le persone che in Italia parlano di politica su Twitter sono molto attive anche fuori dalla rete, che quello che succede su Twitter non è semplicemente un chiacchiericcio fra persone che se la raccontano, diciamo, ma che le persone che parlano di politica su Twitter parlano molto di più anche fuori dalla rete. Baccari, che ha studiato le campagne di comunicazione di leader come Obama, ha avuto modo di parlare anche dei migliori esempi di comunicazione politica sui social in Italia. I primi esempi della potenza della rete li abbiamo già, a partire dal boom del Movimento 5 Stelle e dal blog di Beppe Grillo, diffuso, condiviso e commentato attraverso i social e la rete. In Italia i politici si sono avvicinati ai social media con un po' di cautela e prevalentemente come strumento per comunicare con i giornalisti, come modo per buttare fuori dichiarazioni senza dover fare il comunicato stampa. Sicuramente alcuni esperimenti si sono fatti, Matteo Renzi insieme a Nichi Vendola, Pippo Civati e a qualcun altro, e ovviamente bisogna citare il Movimento 5 Stelle, è uno di quelli che ha utilizzato con più convinzione questi strumenti. Grazie a tutti!